Un'udienza cruciale quella di oggi? Importantissimo, si è fatto a luce sulla vera causa di morte di Dennis Bergamini. È stato ucciso e l'hanno detto tutti i concordi, credo che sia un'udienza che è un passo fondamentale verso il traguardo della verità per Dennis. Quelle domande insistenti sull'AIDS? Un insulto, sono un insulto. Un insulto alla memoria, un qualcosa di inaccettabile. Devo dire, inaccettabile proprio, inaccettabile. Grazie a tutti.